Buongiorno amici del canale, oggi è il secondo giorno, questa mattina la temperatura è scesa a 4 gradi e fa freddissimo Piovevamo un programma o un'escursione ma purtroppo piove, per cui vedremo un po' cosa ci riserva questa giornata e siamo diretti a Brazov Piovevamo un po' osserva freddizione Il strudel Ecco i curtos tipici, diamo un po' il foro, buono Dopo un'ottima colazione andiamo a prendere la funivia che ci porterà su Sotto giuro che c'è il paese Abbiamo raggiunto la vetta del monte Tampa, 980 metri Peccato perché si sarebbe dovuto vedere tutta la città sottostante ma la condizione è un po' critica Piovevamo un'ottima Piovevamo un'ottima Piovevamo un'ottima Piovevamo un'ottima Piovevamo un'ottima Sto rientrando perché ci ha preso un bel diluvio Si va a pranzare Scopriamo come si mangia Comunque se nei video che faccio non mi lamento dei ristoranti vuol dire sono buoni Buon appetito Oggi in due stiamo digiuni quasi Questa rigorosamente all'aglio Siamo quasi al termine anche di questa giornata E come l'abbiamo iniziata La chiudiamo Con un altro Kurtos Ma non ce la faccio più a mangiare Kurtos alla pizza Poi ovviamente anche quello dolce Ma all'abbiamo in quale Ci t'ana Piovevamo un'ottima Grazie a tutti. Mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Siamo rientrati al BNB, ci sono due gradi, c'è un'umidità del 90% quasi, siamo immersi nell'acqua e anche questa giornata è finita. Ci vediamo al prossimo video, domani sarà una giornata scopiettante. Buonanotte. Grazie a tutti.